La puntata di ieri sera del Grande Fratello, lunedì 4 marzo 2024, si è aperta con il rimprovero di Alfonso Signorini rivolto alla concorrente Anita Olivieri. La conduttrice ha ribadito di non aver pronunciato la frase in cui esprimeva il suo disappunto per l'idea di ricevere richieste di foto dopo l'uscita dal reality, contraddicendo quanto sostenuto da Signorini. Tuttavia, pochi minuti dopo, Anita ha presentato prove video a supporto della sua versione dei fatti. Anita Olivieri è stata protagonista di un'altra dichiarazione significativa, particolarmente apprezzata dal pubblico che seguiva il programma da casa. Durante una conversazione con Massimiliano Varrese, Anita ha condiviso il suo disagio riguardo all'idea di essere riconosciuta al cinema. Mi sento a disagio quando la gente mi riconosce. È come se potessero spezzarmi. Al riguardo, Alfonso Signorini ha commentato. Sei fortunata. Almeno questo ti preoccupa quando lascerai il programma. La reputazione è importante. Dovresti solo ringraziare. Non sono arrabbiato con te. È possibile uscire dal Grande Fratello e non avere alcuna opportunità. Non è così scontato. Sembra che tu stia continuamente riflettendo su vari aspetti. Rallenta. Il Grande Fratello non offre opportunità. Tu le crei. Vuoi apparire come una persona incompresa invece di ammettere di aver detto qualcosa di poco sagace. Questo confronto con Alfonso Signorini ha segnato l'inizio del crollo emotivo di Anita, che ha successivamente affrontato i video riguardanti la fine dell'amicizia con Giuseppe Garibaldi, oltre alle critiche di Beatrice Luzzi e Simona Tagli, portandola a pronunciare le seguenti parole. Beatrice non si analizza mai. L'ho consigliata a un terapista quando era fuori perché ne aveva bisogno. Ho pensato di andarmene a causa sua. Non voglio più parlare di lei. Lei continua a parlare di me. Tutto ciò che dice su di me riflette ciò che pensa di se stessa. Io sono cresciuta. Ho lavorato su me stessa, mentre lei è rimasta ferma da quando è arrivata.